Ancora un'altra sacra rappresentazione organizzata questa volta dai giovani di azione cattolica delle parrocchie Maria Santissima Immacolata e Maria Santissima del Rosario si terrà stasera a partire dalle 19.30 infatti la sacra rappresentazione, la gloria della croce, passione, morte e resurrezione giunta alla settima edizione realizzata grazie al volontariato e all'impegno dei giovani delle due parrocchie la rappresentazione muoverà da Corso Vincenzo Bellini, nello specifico dalla villa comunale per poi passare dal casale Papa Andrea, chiesa Maria Santissima del Rosario, via Nino Martoglio e chiudersi in piazza Botteghelle dove si rappresenterà la scena più suggestiva